Salve a tutti amici, quest'oggi soluzione di The Man From The Wind Of 2, mi sono studiato bene il gioco e adesso vi posso dire come fare a finirlo, a terminarlo senza nessun problema. La soluzione va capita perché non potete fare un copia in colla di quello che faccio io, ogni volta il gioco genera un gioco diverso, nel senso che l'uomo della finestra andrà a cercare in posti diversi e quindi i due nascondigli che vi salveranno la vita sono sempre diversi, ma vi spiegherò come fare e ci sono poi delle procedure che vanno sempre, sempre fatte. Iniziamo. Allora, metto il gioco normale, schippo la parte iniziale e vi faccio vedere. Allora, prima di tutto nella prima fase bisogna trovare alcuni appunti, sicuramente ce n'è almeno uno fuori, quindi velocemente, non dobbiamo perdere tempo, andiamo fino in fondo a vedere se c'è e ci sarà di sicuro. Eccolo qui, ce n'è uno spesso sulla porta e un altro qui da qualche parte. Ce ne sono altri nel mezzo dell'appartamento, ma adesso, mentre li cerco, vi mostro quali saranno i nascondigli. Allora, vi aiuto anche con l'inglese. Ecco qua intanto un'altra nota. Questa è la TV, Entertainment parlerà nel bloc note di oggetto per l'intrattenimento, quindi il cabinet sotto la TV, è questo, la TV. Poi, dopo lo vediamo meglio, eh. Questo è under the sink, quindi sotto il rubinetto, è questo. Poi, where the food is stored, mi pare, dove è contenuto il cibo, è il frigo. Questa è la, where the boxes are kept, credo, dove le scatole vengono tenute, quindi lo stanzino, intanto c'è anche questo. Poi, attenzione qui, abbiamo, eh, ok, questo. Questo è where the clothes are clean, dove vengono puliti, o dove sono puliti i panni, quindi questa tipa di vaschetta. Qui, invece, dove ci sono i vestiti sporchi, i clothes where stored, mi pare, una cosa del genere, lo vedremo dopo. E basta. Allora, chiudi, eh no, e c'è anche questo, scusate. C'è il bagno con la vasca, quindi dove si fa il bagno, il bathroom. E lo specchio, under the mirror, questo. Ci siamo, infine, la stanza vuota, the empty room. Questi sono i nascondigli. Quindi, ora, chiudiamo tutte le finestre, sempre, sempre e comunque. E sta una lì, una qui, e una qua. Spero di non aver perso troppo tempo, ma adesso andiamo a vedere il documento completo. Quindi, quando abbiamo trovato tutti i documenti, possiamo andare a leggere. Allora, numero uno, andrà a cercare where the sink with a cabinet underneath, che è sotto l'acquaio. Ok, e lì non possiamo andare. Poi, andrà the place reserved for bathing, la vasca da bagno. Quindi, neanche lì va bene. Now we will look under the box watched for entertainment, la tv, come vi ho detto prima. Where the unclean clothes are kept, quindi andrà nella cesta dei vestiti sporchi. Where the empty room, quindi stanza vuota. E the place under the mirror, cosa è fuori? Quali sono i due nascondigli che non sono stati segnati? Quindi, il frigorifero, quindi the food, e i vestiti puliti. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a nascondere. Allora, andiamo a interagire con Andrew. Follow me. Gli diciamo di andare dentro il frigo a nascondersi. Poiché questo... Allora, ci sono due tipi di nascondigli. Quelli piccoli per lui, quelli grandi per noi. E noi andiamo in quello più grande, ovvero dove i vestiti vengono lavati, questi qui. Ok. Perfetto. Cosa succederà a questo punto? Arriverà l'uomo della finestra. Ora mi sto rendendo conto che non ho chiuso a chiave la porta. Non so se questa cosa è essenziale. Lo scopriamo insieme. Sicuramente è essenziale chiudere tutte le finestre. Ok, no, forse è uguale. Allora, le finestre sono chiuse. Va a vedere, quindi, sotto il sink, sotto il rubinetto. Non trova niente. Poi va a vedere... Nella vasca da bagno. E non trova niente. Poi va a vedere sotto alla tv e non trova niente. E adesso andrà a vedere nella cesta le panni sporchi. Lì avremmo potuto nascondere Audrey, ma ovviamente ci andava a cercare, quindi niente. E poi l'empty room, che è vuota. Non trova nulla. Guarda sotto lo specchio. The bathroom sink. E non trova nulla. Tempo scaduto. Quindi non c'è obbligo di chiudere le porte, di chiudere la porta d'ingresso a chiave. Io l'avevo fatto più volte, ma... Bisogna semplicemente chiudere tutte le finestre e nascondersi negli unici due punti in cui lui non andrà a guardare. Potreste fare un game over le prime volte, però, ecco, se non sapete un po' l'inglese, se avete paura, segnatevi quei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dove va a vedere e poi dopo andate a vedere quali sono e lo vedete perché lui va in ordine poi a cercare. E ce l'abbiamo fatta. Abbiamo completato il gioco. Spero di essere stato utile. Un saluto.